Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, video proprio velocissimo per gli appassionati di fast food e per chi mi segue. E già da un po' di tempo che gira sulla rete una notizia che KFC, cioè Kentucky Fried Chicken, che molti di voi hanno conosciuto anche grazie ai miei video, sta per arrivare in Italia, finalmente sì, dopo tanti, tantissimi anni, dopo tante lotte, dopo tante interesse anche dal pubblico italiano all'estero di questo fast food, finalmente Kentucky Fried Chicken apre in Italia e la prima sede del fast food sarà proprio nel centro commerciale Roma Est a Roma. Credevo che tutte queste cose che mi hanno detto, che ho visto, fossero una balla, ma in realtà è tutto vero, tutto scritto, aprirà a breve. In realtà dove aprire a settembre, però per problemi logistici hanno cambiato la data di apertura. Ieri sono state pubblicate le prime foto dell'esterno, che è ancora chiuso, foto che potete vedere nel primo link che vi lascio in descrizione. Vi invito anche a seguire la pagina del centro commerciale Roma Est per tutte le info. E inoltre nel secondo link che vi lascio sotto, vi lascio il sito del KFC italiano che è in costruzione, quindi a breve rilascerà tutti i menu, tutto quello che sarà disponibile da mangiare nella versione italiana di questo grande fast food. E come terzo link vi invito ad iscrivervi al canale di Alessandro Vatalakis, troverete il link sempre in descrizione, perché purtroppo io non ci sarò alla data di apertura, però loro faranno, a quanto ho capito, un servizio, un video sulla data di apertura del fast food. Quindi molti sono interessati a questa cosa, c'è anche chi mi iscrive tutti i giorni perché vuole sapere a proposito di fast food. Quindi niente, se vi interessa questa iniziativa che finalmente dopo tanti anni arriva questo famoso fast food in Italia, anche secondo me è una vergogna però che arrivi dopo tanto tempo perché in Europa siamo gli unici a non averlo il Kentucky Fried Chicken. Quindi non so, tipo se negli anni 70 era già presente in Francia, in Germania, in Italia non era affatto presente. Quindi vi invito a vedere link in descrizione, così potete vedere foto, sito italiano del KFC e il canale di Alessandro Vatalakis dove ci sarà il servizio sul KFC. Un saluto a tutti, viva il pollo del colonnello Sanders e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!